Ben trovati da TG della Mobilità, questa sera torna a Via Libera in una speciale versione notturna. Il percorso di 8 km, riservato a biciclette e pedoni, sarà chiuso al traffico dalle 19 a mezzanotte. Centro Prati, un tratto di Via Tiburtina, le aree dove si snoda il percorso, con riduzione di carreggiata o vere e proprie chiusure. Solo bici e pedoni in Via Coladirienzo, Via Del Corso, Via De Fori Imperiali, Via di San Gregorio, Via Labicana, Via Le Manzoni, un tratto di Via Tiburtina all'altezza di San Lorenzo. Sulla rete del trasporto pubblico 18 linee saranno deviate, limitate o sospese, tra queste le linee 52 e 53 limiteranno le corse a Piazza Barberini, la linea 100 e la linea 119 saranno sospese. Dalle 19 è tutto per questa edizione del TG della Mobilità. Sous-titrage Société Radio-Canada